Il SET è il servizio educativo territoriale. È un servizio delegato dai comuni del distretto 5 Padova Sud. Il SET si occupa di interventi di sostegno ai minori e alle loro famiglie quando sono rilevate condizioni significative di svantaggio, emarginazione o rischio di pregiudizio. Gli obiettivi principali sono promuovere le risorse presenti nel minore e nella sua famiglia, contenere i fattori di rischio relazionali, monitorarli e prevenirne l'aggravamento. Le attività consistono in interventi educativi territoriali all'interno del contesto di vita e di relazione naturale dei ragazzi. Se disposto dall'autorità giudiziaria, il SET si attiva per la realizzazione di incontri protetti tra genitori e figli connessi a condizioni di rischio per i minori. Il servizio è composto da un'equip multiprofessionale, formata da un assistente sociale e da un educatore professionale.